E quella guerra che i Reeder e le SS vivevano appunto come il vertice della formazione nazista, quella guerra è stata per loro l'occasione dello scatenarsi di tutta la loro criminalità a cui erano stati formati ed educati intenzionalmente. Tu sai cos'è successo a Jimmy? Cos'è successo a Jimmy? Non è successo niente. Niente. Hai capito? Non è successo niente a Jimmy. E se non fai la brava bambina, ti scuraccio!